dovevo girare un cortometraggio per campare facevo le caricature ai soldati americani quanti segni l'espressione degli occhi il naso le orecchie le pieghe della fronte il mento a poco a poco imparai ad accrescere ogni espressione del viso senza cambiarla magari aggiungendo una piega che non aveva e siccome avevo tanto sofferto che appena potevo immaginavo era sempre una piega di favola dovevo girare un cortometraggio dal titolo roma di nuovo la mattina della prima ripresa ero a piazza colonna ma attesi le sei del pomeriggio quando il sole morendo sui tetti declinò i porticati e li mise in cammino verso sera a quell'ora tutto era uguale alla mattina ma era stravolto dalla fiabba da allora ho girato tanti film e ho vinto due premi oscar però la mia chiave è la stessa la realtà come io la vedo commento al contrario di quanto pensano in molti chi immagina non è in contrasto con la ragione i maestri immateriali spiegano che l'immaginazione è un aspetto della ragione pura della ragione più elevata del piano mentale in cui quando saremo disincarnati avremo l'intuizione di ciò che trascende la mente